alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Avverto che lo schema recante e la ripartizione dei tempi per la discussione generale pubblicato in calcio al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ne hanno richiesto l'ampliamento. La Commissione Giustizia si intende autorizzata a riferire oralmente a facoltà di intervenire il relatore deputato Giuseppe Berretta. Berretta. Prego, onorevole. Sì, grazie signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Il provvedimento che oggi prendiamo in considerazione è un disegno di legge davvero di grande importanza, perché al di là dei numeri e delle persone coinvolte si tratta però veramente di un provvedimento molto molto atteso. Si tratta di questione complessa, quella che tentiamo di affrontare. Complessa per le numerose fonti normative che intervengono di carattere interno e di carattere internazionale. Infatti nel regolamentare la materia dell'interpello e quindi delle modalità di esercizio di questo interpello è necessario tenere in considerazione la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York dell'89, l'articolo 7 in particolare, la Convenzione dell'AIA del 93 all'articolo 30, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo all'articolo 8. Fonti tutte che hanno sicuramente inciso anche nelle pronunzie che Supreme Corti hanno adottato in questo ambito e in particolare mi riferisco alla sentenza della Corte Costituzionale a 278 del 2013, sentenza che peraltro arriva a valle di un lungo iter e di altre pronunzie di diverso tenore, quindi evidentemente frutto di un'elaborazione che ha avuto un tempo di maturazione anche piuttosto lungo. Al tempo stesso grande importanza la decisione 25 settembre 2012, Godelli contro Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo. Se tutto ciò non bastasse è evidente che si tratta di materia, Signora Presidente, nella quale ci sono implicazioni di carattere morale, etico, di fondamentale importanza e che hanno reso l'iter, di cui ringrazio molto per il contributo che è arrivato tutti i deputati, i molti deputati che hanno proposto disegni di legge al proposito, disegni di legge di segno diametralmente opposto, che hanno reso certamente il compito della Commissione di Giustizia e il compito dello sottoscritto certamente non semplicissimo. Quindi arriviamo a valle di questo iter, ripeto, iter complesso, nel quale abbiamo giustamente ritenuto utile audire numerosi docenti universitari, i rappresentanti delle associazioni che appunto hanno ritenuto di richiedere un'audizione. Abbiamo audito anche numerosi giudici, perché questo è un profilo sul quale riternerò, nell'emore del procedimento legislativo in verità la giurisprudenza è andata avanti adottando una serie di decisioni e quindi tentando di dare già una prima risposta, una risposta al diritto del figlio a conoscere le proprie origini. In questo senso, nell'iter abbiamo affrontato diverse questioni. La prima questione, che è la questione centrale, mi preme ribadirlo. Noi con questo provvedimento non vogliamo in alcun modo mettere in discussione la disciplina del parto anonimo, che è disciplina che ha dato buoni risultati, ottimi risultati, che rappresenta una disciplina peculiare del nostro ordinamento, che però ha una funzione sicuramente condivisibile, che è quella della tutela della vita del nascituro e della salute della madre al tempo stesso. È una disciplina che la stessa Corte Costituzionale non mette minimamente in discussione. Infatti la sentenza 278 del 2013, che è certamente di fondamentale importanza nell'iter di questo nostro provvedimento, nel valutare, nel vagliare gli interessi in gioco e nel proporre un contemperamento tra gli interessi in gioco, ribadisce la priorità e una prevalenza del diritto della madre al mantenimento dell'anonimato. Quindi tra il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini, il diritto della madre al mantenimento dell'anonimato, prevale il diritto all'anonimato. Tuttavia la Corte ritiene che sia necessario, perché il nostro ordinamento sia ordinamento rispettoso dei diritti in gioco e quindi, diciamo, rispettoso anche dei principi di carattere internazionale contenuti nelle fonti che ho testecitato, che si proceda a un interpello. Quindi qui sta il cuore della disposizione della pronuncia della Corte Costituzionale e qui sta il cuore anche della proposta di regolamentazione che portiamo all'Aula, cioè una possibilità di interpellare la madre. Trascorsi 25 anni, almeno 25 anni dalla data del parto, il figlio ha la possibilità di rivolgersi al Tribunale dei minorenni, richiedere che la madre venga interpellata, le si chieda se intende mantenere l'anonimato o intende far venire meno l'anonimato e quindi dar modo al figlio di conoscere l'identità della madre. In apparenza sembra una questione semplice, le implicazioni invece sono numerose e anche molto significative. Noi proprio per dar seguito a questo principio dell'esigenza di massima tutela della madre abbiamo intanto stabilito un principio che l'interpello si possa fare un'unica volta onde evitare anche delle pratiche di vera e propria persecuzione che potrebbero avvenire con più richieste che vengono reiterate nel tempo. Al tempo stesso abbiamo previsto che la madre unilateralmente possa dichiarare di far cessare l'anonimato. Quindi una possibilità che ad oggi non è prevista, tanto che alcuni tribunali, pur in presenza della richiesta della madre di far cessare l'anonimato, dichiarano tale richiesta inammissibile e quindi non consentono l'acquisizione al fascicolo dell'adottato o del figlio tale istanza. Abbiamo altresì previsto delle modalità di svolgimento dell'interpello che siano quanto più attente e rispettose della madre. In questo senso abbiamo previsto, d'un canto, che siano i servizi sociali soggetti sicuramente professionalizzati e in grado di svolgere questa attività col massimo rispetto, i soggetti preferibilmente preposti a tale al contatto con la madre e quindi all'avvio della procedura. Perché abbiamo inserito questo preferibilmente? Perché c'è stato rappresentato dagli auditi che in taluni casi, sia pur rari, questa attività non può essere svolta dai servizi sociali e quindi vorremmo evitare che attraverso una regola eccessivamente rigida si crei un ulteriore ostacolo all'avvio e allo svolgimento dell'iter. Dopodiché abbiamo previsto delle modalità che siano quanto più rispettose della privacy della madre e in questo senso abbiamo previsto che l'interpello si debba svolgere in maniera tale da considerare le condizioni di salute, l'età, il luogo dove vive la madre e quindi tutta una serie di valutazioni che rimettiamo ai Tribunali dei minorenni soggetto competente per lo svolgimento dell'interpello. Abbiamo ritenuto di mantenere l'età dei 25 anni, nonostante vi fossero proposte tese ad anticipare alla maggiore età tali richieste e abbiamo quindi, a nostro avviso, operato in maniera tale da assicurare nei limiti del possibile la massima attenzione nei confronti della madre, il massimo rispetto della sua privacy e al tempo stesso contemperare queste esigenze con la possibilità di dar seguito a una pronuncia della Corte Costituzionale a nostro avviso molto chiara e molto netta sul punto, tesa ad assegnare al giudice la possibilità di procedere a un interpello e di procedere a un interpello onde verificare la permanenza di questa decisione della madre di mantenerlo anonimato. Abbiamo affrontato anche il tema della madre deceduta. In questo senso ovviamente ci sono tesi, idee anche in giurisprudenza discordanti e però abbiamo ritenuto che in caso di decesso della madre, trattandosi di diritto personalissimo, quello appunto al mantenimento dell'anonimato, il decesso comporti appunto il venir meno di tale diritto con il venir meno del soggetto che ne è titolare, consentendo quindi una espansione del diritto in precedenza sacrificato o compresso del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Quindi sulla scorda anche di una pronuncia molto motivata e argomentata del Tribunale dei minorenni di Trieste abbiamo ritenuto più convincente questa impostazione. Come abbiamo ritenuto utile prevedere espressamente la possibilità dell'esercizio del diritto all'interpello da parte del tutore nel caso di soggetto incapace, totalmente o parzialmente. Anche in questo senso non è una novità che il fatto che diritti personalissimi vengono esercitati per il tramite del tutore, basti pensare che appunto il tutore può impugnare il matrimonio, può impugnare il riconoscimento del figlio naturale, può esercitare l'azione giudiziale in materia di paternità o maternità naturale, ha delle competenze, esercita quindi i diritti propri dell'incapace in caso di interruzione della gravidanza e mi sembra che quindi ci siano dei precedenti specifici che consentono anche in questo ambito di regolamentare la possibilità di esercizio dei diritti dell'incapace per il tramite del tutore. Con riferimento poi, Presidente, ai pareri delle altre commissioni, proprio su queste questioni, la questione della madre deceduta e la questione dell'incapace, come peraltro di una presunta esigenza di regime transitorio, le commissioni competenti hanno ritenuto di dover esprimere una posizione che è una posizione non del tutto coincidente con quella della commissione competente. In questo senso sicuramente c'è la disponibilità in sede di comitato di nuova e all'esito dell'esame degli emendamenti, del dibattito in aula, di tener conto di tali pareri e di tentare di trovare un punto che sia un punto equilibrato, serio e avanzato, ma è un punto necessario per evitare le disparità di trattamento che registriamo in questa fase. Perché, come dicevo prima, in assenza di una regolamentazione legislativa, i Tribunali dei minorenni si stanno orientando in maniera difforme. Taluni i Tribunali dei minorenni hanno ritenuto che già oggi, sulla scorta della sentenza 278 del 2013, interpretando essa evidentemente quindi come una sentenza che è già detta delle regole sufficientemente chiare, tali da poter essere applicate immediatamente, stanno dando seguito all'interpello. Noi abbiamo avuto modo di ascoltare i Presidenti del Tribunale di Trieste, di Firenze e di Torino, che procedono quindi all'interpello e hanno già dettato un regolamento interno nel quale regolamentano una sorta di protocollo ai fini dell'interpello. Come peraltro sappiamo ci sono altri Tribunali, ad esempio il Tribunale dei minorenni della mia città, Catania, ma altri Tribunali, molti Tribunali dei minorenni, che interpretando la sentenza 278 del 2013 come una sentenza di principio, ritengono sia essenziale l'intervento del legislatore per poi procedere all'interpello. Questa condizione di disparità che si è venuta a determinare, secondo noi, ancora di più, in presenza di una sentenza delle Corte Costituzionali che dice che il legislatore dovrà procedere alla regolamentazione dell'interpello. A ciò si assomma, quindi questa disparità di trattamento che registriamo nel territorio nazionale, disparità di trattamento che interviene in un ambito particolarmente delicato, qual è quello appunto della possibilità del figlio di avviare l'iter teso all'interpello, ripeto, non teso alla conoscenza. Conoscenza avverrà se avverrà in seguito a un interpello, in seguito a una scelta della madre di far venire meno l'anonimato. Certamente impone ancora di più al legislatore di intervenire e di intervenire quanto più rapidamente possibile. L'iter, ripeto, è stato un iter complesso nel quale abbiamo affrontato con grande attenzione, ascoltando molto e tentando di trovare punti di equilibrio. Riteniamo di aver fatto un pezzo di strada, ora speriamo di riuscire a compiere l'ultimo miglio per raggiungere l'obiettivo. In questo senso è ovvio che anche il dibattito di quest'oggi è estremamente importante e sono certo che arriveranno ulteriori contributi per raggiungere l'obiettivo. Presidente, io al di là delle considerazioni che ho svolto a braccio vorrei essere autorizzato al deposito di un'apposita relazione. Va bene, è autorizzato naturalmente. A facoltà di intervenire se lo ritiene il rappresentante del Governo, si riserva di farlo successivamente o ora? Prego. Sì, grazie Presidente. Devo dire che il relatore ha ampiamente illustrato il testo e devo dire che con grande autorevolezza ha specificato e ha indicato che si tratta di una materia molto delicata perché ci sono dei riflessi non solo giuridici ma anche morali e quindi era difficile ed è difficile tuttora trovare un punto d'equilibrio. Devo dire che la Commissione ha fatto secondo il Governo un ottimo lavoro e ha cercato di colmare intanto un vuoto normativo perché come è stato illustrato è una materia sul quale è intervenuta non solo la Corte Costituzionale con la sentenza più volte richiamata numero 287 del 2013 ma anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo e quindi alla luce proprio della sentenza più volte richiamata